il drago antico di plutonio ruggisce come vi siete permessi di violare la sacralità del mio rifugio e poi ti carica 26 per colpire mancato aspetta dato che mi ha attaccato io attivo il mio talento di parata esagerata e lo contro attacco colpo vitale in carica migliorato con lo spadone più 5 delle innumerevoli mazzate attivo il talismano all'uomo veramente euforico e spendo 10 punti ferita per colpirlo automaticamente quindi sono 1213 danni e luto automaticamente tutto il suo tesoro come azione gratuita è morto ma dai ma non è possibile ma tuo personaggio è troppo sgravo dai perché ti aspettavi forse di vincere signori buongiorno e bentornati sul canale del master che io sono il master che ha il vostro ospite su questo canale e come avete visto questa settimana andiamo a parlare di uno di quei problemi che a differenza del solito viene presentato come gravissimo è insormontabile ma che in realtà se si va analizzare la situazione probabilmente non è neanche un reale problema power play è uno di quei termini difficili da definire perché normalmente non viene usato per definire uno specifico comportamento ma è un termine denigratorio usato per indicare in linea generale un giocatore che cerchi di costruire un personaggio meccanicamente estremamente forte all'interno di un sistema di gioco per quanto il power play non sia qualcosa limitato esclusivamente al d20 system o a dnd o comunque i sistemi pesantemente meccanici in generale ne parleremo qui perché fondamentalmente più un sistema a delle meccaniche complesse e più che più meccaniche a un sistema più spettacolare diventa il power play quando viene messo in atto quindi diciamo che è qualcosa che in giochi meno strutturati più orientati a narrazione non è che non ci sia ma non è così impattante per il gioco ora detto questo e visto il titolo probabilmente ora vi starete domandando perché il power play non dovrebbe essere un problema considerando anche ci sono un sacco di persone che se ne lamentano continuamente per prima cosa ci sono due adagi che mi è successo di dover ripetere molto spesso a molti master nel corso della vita che voi dovete sempre ricordare il primo è che i mostri sono lì per perdere ne abbiamo fatto anche un video qualche anno fa ve lo lascio linkato qua in alto nel caso dove andate a recuperare ma per riassumere nel gioco di ruolo non c'è una componente agonistica i giocatori non stanno cercando di vincere contro il master il lo scopo del gioco è raccontare una storia quindi è perfettamente normale che ogni volta che c'è uno scontro siano i giocatori a vincere il gioco funziona proprio così quindi se i personaggi dei vostri giocatori sono così forti da sconfiggere facilmente qualsiasi cosa gli mettete contro bene non state giocando a un gioco strategico non state giocando a warhammer non c'è un bilanciamento di gioco se i giocatori vincono il gioco sta funzionando esattamente come è previsto che funzioni al massimo questo potrebbe diventare un problema per i giocatori dato che se gli scontri diventano troppo facili dato che non c'è una condizione di vittoria appunto loro non combattono per vincere combattono per divertirsi se il combattimento non è abbastanza entusiasmante semplicemente il combattimento diventerebbe noioso e quindi sarebbe un problema per i giocatori nel caso non sicuramente per il master nel caso comunque voi come master siete lì per garantire anche l'intrattenimento del tavolo quindi dovreste cercare di fare in modo che lo scontro sia sempre interessante e qui entra in gioco il secondo adagio del master c'è il fatto che i mostri voi non li pagate i vostri giocatori hanno sconfitto l'antico drago di plutonio con un colpo ok la prossima volta mettetene due vi sconfiggono entrambi con un colpo mettetene tre non c'è un limite né al numero degli scontri né ai mostri che voi potete inserire potete aumentare la difficoltà degli incontri finché non riuscite a trovare quel livello che sia sufficientemente difficile per impegnare i vostri giocatori ma senza diventare troppo difficile che lo scontro diventi effettivamente qualcosa che loro possano perdere molti sistemi tradizionali complessi inseriscono delle linee guida su quelle che dovrebbe essere il buon bilanciamento uno scontro però se voi vedete che i personaggi sono troppo forti evidentemente il vostro specifico gruppo di gioco è al di fuori di quello che è la media statistica e quindi come è previsto al vostro ruolo di master voi dovete intervenire per far ritornare le cose interessanti anche se questo vuol dire andare contro quello che è il bilanciamento previsto nel d20 system parliamo del calco al grado di sfida c'è un po tutta una serie di video altri giochi hanno altri metodi però se questi metodi non funzionano sta a voi come master cambiarli ovviamente anche se non è il caso del power play vale anche il discorso contrario se vi doveste mai trovare di fronte a un gruppo che avesse difficoltà a superare anche degli incontri dei combattimenti con degli avversari ritenuti estremamente scarsi non sarebbe sicuramente colpa del gruppo sarebbe a voi come master semplificare gli incontri per venire incontro alle esigenze dello specifico gruppo di nuovo non c'è una condizione di vittoria non c'è un modo corretto di fare gli incontri da parte dei giocatori quale dovrebbe essere il problema quindi il giocatore ha costruito un personaggio meccanicamente forte all'interno delle regole che il sistema gli dà in modo da poter superare gli incontri quello è esattamente quello ci si aspetta che i giocatori fanno che il master debba ribilanciare gli incontri perché il livello di potenza effettivo del gruppo è diverso da quello che dovrebbe essere nella curva teorica ma anche quello è il caso è esattamente uno dei motivi per cui c'è il master lì e uno dei compiti del master è anche provvedere a questo genere di raddrizzamenti e bilanciamenti durante la sessione quindi nulla che non dovrebbe essere fatto comunque non è forse che il vero problema non è che un personaggio possa essere meccanicamente molto performante ma che il master si senta ferito nell'ego per questo molti master vivono nell'illusione che loro sarebbero dei giocatori molto migliori di quelli che hanno al tavolo e normalmente non è così giochi estremamente meccanici e complessi come può esserlo dnd come può esserlo pathfinder diciamo molti dei giochi tradizionali hanno poche regole in realtà estremamente semplici alla base del gioco per poi andare a espandersi in un enorme quantità di sottosistemi varianti regole speciali che si vanno però ad applicare solo in situazioni specifiche e molto spesso a specifici personaggi nell'esperienza di gioco che qualcuno si fa facendo il master sicuramente c'è una conoscenza molto profonda delle regole di base probabilmente tutto quello che riguarda movimenti combattimenti situazioni particolari di combattimento anche in situazioni diverse da quella che i giocatori sono abituati perché normalmente ogni giocatore gioca un personaggio il master magari a 7 8 mostri in gioco per ogni singolo incontro quindi è anche abituato a combattere in una maniera diversa in più il master ad esperienza e tutte quelle regole che governano l'acquisizione dei tesori il passaggio di livello il calcolo del grado di sfida o quello che è tutte cose che i giocatori semplicemente probabilmente sanno che esistono ovviamente ma per quanto riguarda loro non avranno mai a che fare con queste regole nel corso delle sessioni è perfettamente normale quindi che il master anche un master di grandissima esperienza abbia molta familiarità col sistema in generale ma gli capiti molto raramente di andare ad avere a che fare con varianti di regole che governano un singolo personaggio o una singola classe proprio perché queste sono cose che sono appannaggio dei giocatori e non solo è normale ma è anche corretto così non avrebbe proprio senso da parte del master andare a perdere tempo per imparare sotto sistemi di regole specifiche che per quanto riguarda la sua attività come master non servono assolutamente a nulla un giocatore può anche spendere settimane anche mesi a leggersi ogni singolo manuale per cercare di creare la build perfettamente ottimizzata per il suo personaggio anche perché poi quel personaggio dovrà tenerselo per mesi se non anni di gioco e tra l'altro giocandolo per anni è anche ovvio che diventi estremamente bravo nell'utilizzarlo proprio perché ha un enorme esperienza accumulata e un sacco di tempo per ottimizzarlo il meglio possibile ma un master non ragiona in base a queste logiche un master deve portare per ogni sessione una dozzina di png la maggior parte dei quali probabilmente non sopravviverà mai neanche al primo incontro con i personaggi quindi non avrebbe neanche senso andare a costruirli così meccanicamente complessi tanto i mostri sono lì per perdere e anche l'occasionale png ricorrente avversario con nome quello che è probabilmente non verrà costruito tanto per renderlo meccanicamente molto potente ma i suoi talenti e la sua costruzione dipenderà da quelle che sono le esigenze di trama per il master su che cosa è previsto faccia questo png all'interno della storia e quindi perfettamente normale che il master non vada a perdere tempo in casi particolari che sono poi cose invece sono appannaggio dei giocatori che anzi devono sapere molto bene come funziona il loro personaggio perché proprio questo il ruolo che è previsto per loro va da sé quindi che no è perfettamente normale che il master non sia più bravo dei giocatori a giocare i loro personaggi e tra l'altro questo vale per tutti anche chi gioca da anni avrebbe probabilmente difficoltà a prendere e giocare in un personaggio che sia stato costruito e giocato da qualcun altro e immagino che molti di voi inorridiranno la sola idea di usare il personaggio di qualcun altro la questione risolta quindi l'unico problema del power play è l'ego dei master che devono imparare a giocare e capire i non essere onniscenti e non proprio perché effettivamente può esserci un problema al tavolo per via del power play anche se non è il power play di per sé fin tanto che un personaggio è estremamente competente in un'area di competenza questo non è un problema probabilmente supererà molto più facilmente le sfide che gli vengono proposte di quello che il bilanciamento medio del gioco prevederebbe però già detto quello al massimo un problema per lui che ha reso il gioco più noioso per via del fatto che il suo personaggio è molto forte e credetemi nel corso degli anni ho visto più di una volta un personaggio che sia stato ritirato semplicemente perché il giocatore non si divertiva dato che quel personaggio era troppo forte rispetto a quello che doveva fare però per voi come master il problema non c'è finché il giocatore vince tutto sta andando come è previsto vada il problema sorge quando questa ottimizzazione non viene fatta da un giocatore nell'ambito di competenza del suo personaggio ma viene fatta per andare a coprire capacità ruoli e abilità di personaggi di altri membri del party in pratica cercando di accentrare su un unico personaggio tutto quello che dovrebbe essere la competenza complessiva dell'intero gruppo di gioco e questo diventa un problema proprio per l'intero tavolo quando il mago del vostro party lancia più incantesimi del chierico è più forte a minare del guerriero riesce a essere più stealth del ladro ed è anche più bravo a parlare del bardo quello che è appena successo è che tutti gli altri giocatori al tavolo sono appena diventati degli spettatori delle mirabolanti avventure del mago il giocatore ha fondamentalmente accentrato così tanto potenziale sul suo personaggio da rendere superflui i personaggi degli altri giocatori e questo per quanto magari meccanicamente funziona rende il gioco poco interessante per tutti i membri del tavolo e dato che voi come master siete tenuti a cercare di garantire il massimo intrattenimento per il massimo numero delle persone se tutti al tavolo si stanno annoiando tranne uno questo è un vostro problema però come detto questo non è un problema dovuto al power play è un problema dovuto al comportamento arrogante da parte del giocatore non della meccanica del suo personaggio se voi aveste un tavolo di quattro personaggi tutti e quattro perfettamente in equilibrio tra i loro che comunque una situazione improbabile ma comunque e ma uno dei quattro giocatori per quanto il suo personaggio non sia più forte degli altri continuasse a parlare sopra gli altri giocatori dire agli altri cosa devono fare dare ordini come se fosse il capo del party comunque sareste all'interno di un problema di prevaricazione al tavolo anche se non avrebbe nulla a che fare con la meccanica quindi il problema non è il power play è il comportamento se il problema è il comportamento però lo si risolve come non si farebbe con qualunque altro problema di comportamento al tavolo cioè si parla con il giocatore e gli si dice che o la smette o può andare a cercarsi un altro gruppo power play o non power play che faccia prima di chiudere però vorrei dire un'altra cosa nel corso agli anni mi è capitato molto spesso di venire chiamato in mezzo a discussioni per quanto riguarda il power play sia di persona sia molto spesso su internet indipendentemente da quale sia il vostro socio al vostro aggregatore di riferimento prima o poi sarete finiti dentro una discussione del genere anche voi immagino ecco capita molto spesso io ho cominciato a farlo perché sono uno pedante mettiamola così che chiedendo un po di domande al master che si lamenta di questo ipotetico personaggio power play nella maggior parte dei casi salti fuori che il personaggio in questione non è affatto particolarmente al di sopra della curva del meta prevista per quella classe quella razza quello che è anzi si tratti un personaggio perfettamente ragionevole all'interno del sistema più che altro sia il master a avere una conoscenza così hobbistica delle regole del gioco da non essere assolutamente in grado di gestire situazioni di gioco che in realtà dovrebbe poter gestire normalmente o peggio si è andato a modificare il sistema senza sapere quello che facesse e ne sta semplicemente pagando le conseguenze perché sì c'è uno squilibrio evidente che però ha introdotto lui dandosi a zappa sui piedi e adesso sta incolpando i giocatori per i suoi errori francamente non ho voglia di perdermi in polemiche in questo video quindi mi limiterò a sottolineare la cosa ma la chiuderemo qui per quanto riguarda voi beh prima di tutto fatevi un esame di coscienza nel caso abbiate a che fare abbiate avuto a che fare con un power play e valutate se effettivamente sia lui che stia cercando di rompere il gioco o se siete semplicemente voi che non ne sapete abbastanza per masterare al livello di gioco che quel personaggio vuole tenere detto questo comunque per questo video è tutto adesso scrivetemi voi qui sotto nei commenti quali sono le vostre esperienze con i power play se effettivamente erano loro a essere troppo arroganti eravate voi a essere incapaci o tutte le altre possibilità che ci sono nel mezzo come sempre se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo per poter crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano metto io manualmente sul server di Discord e sul gruppo i Telegram le notifiche quando esce un nuovo video trovate i link qui sotto in descrizione per il resto io sono il Master CAE e noi ci vediamo nel prossimo video